Per il nostro, allora, questo è il testo che stiamo facendo questa partita. Ma, se gli eseggi sono molto pochi, non ha un favore. Non puoi dire che ci sta andando una pressione, ma che è la tanto, ma che è la tanto, ma che è la tanto, non si spinta la parola della stessa. E anche se appunto fa male il betternato a partita, è un'amarezza che noi notavamo di poter andare via senza amore. Comunque, per lo stesso asato, ci potremmo essere un'energia molto, molto convinta. Alla fine, è il testo che bisogna di boccarsi le mani, e quindi adesso bisognerà avviare una pressione molto profonda della nostra ricerca scientifica, per vedere appunto cosa fare. Magari si potrebbe andare anche di pescaggio, oppure ancora è troppo presto. Se fare la seconda categoria è un'altra ipotesi, evidentemente svilupperemo i quadri di riferimento della società, valuteremo e decideremo insieme.